Cari amiche e cari amici di Barbasofia, la situazione in Ucraina è sempre più drammatica. L'assedio alle città continua, le vittime civili aumentano e le trattative di pace, se così possiamo dire, sono assolutamente inadeguate, direi trattative di tregua, perché parlare di pace è veramente fuorviante. Domani dovrebbe esserci un altro incontro e di oggi è notizia che un membro della delegazione ucraina in realtà stesse svolgendo il doppio gioco, compiando il doppio gioco e dunque riferiva poi dall'interno notizie ai russi ed è stata uccisa, almeno così sembra, dalle notizie che giungono da quelle terre. Ecco qual è il problema, le notizie. La propaganda di guerra è tra le più devastanti, la propaganda di guerra è tra le più forti ed è difficile smascherare le propagande di guerra. È difficile soprattutto per noi che viviamo in democrazie liberali con mille magagne, mille problemi, ma in cui ci sono più fonti di informazione. Ebbene, perché dico che è più difficile? Perché la propaganda dei regimi come quella di Putin è evidente. Ieri una legge approvata alla Duma con oltre 400 voti favorevoli ha di fatto messo il babaglio a tutta l'informazione indipendente russa, quel poco che vi era. Si rischia da 3 a 15 anni di carcere se si emettono, forniscono fake news. Ma cosa sono le fake news per il regime di Putin? Sono le notizie in cui si parla di invasione russa, di guerra all'Ucraina. Perché? Perché c'è un linguaggio che il governo, che il cremino vuole che venga utilizzato. E dunque la informazione libera, o ripeto quel poco che vi era, sta svanendo in Russia. Ma sta svanendo un'altra cosa anche, sta svanendo la presenza di stranieri, giornalisti stranieri che partendo da questa nuova legge, vengono richiamati dalle varie testate, la BBC, da Rai 1, Canale 5, della TV di Mezzomondo, soprattutto il mondo dell'Unione Europea ovviamente e degli Stati Uniti d'America, perché così i giornalisti rischierebbero, cioè non ci direbbero la verità, perché se dicessero la verità rischierebbero di essere arrestati. Dunque con questa motivazione vengono ritirati i giornalisti. E dunque noi che informazione abbiamo dalla Russia? Non ne avremo quasi più, non ne avremo più se non quella ufficiale. Ed ecco che passiamo a noi, alle nostre democrazie liberali. Io sono veramente spaventato, perché la guerra è una cosa complessa e va capita. Detto che c'è uno Stato che ha aggredito un altro Stato, c'è una sovranità violata, c'è però una guerra complessa, ci sono le responsabilità chiare, evidenti, c'è l'invasore, c'è l'aggressore, c'è chi bombarda, c'è chi assiede le città, ma c'è però in questo momento e anche negli anni precedenti una situazione complessa che va considerata e va raccontata. Va raccontato tutto quello che è accaduto nel Donbass, va raccontato tutto quello che è accaduto sul versante anche della Nato. È evidente quello che dice Putin, ma è altrettanto evidente quello che diciamo noi in Europa e a me spaventa che le voci in Europa non conformi vengano di fatto messe a tacere o comunque vengano isolate, denigrate, messe in ridicolo o vengono del tutto cancellate. È ancora possibile muovere delle critiche alla Nato o alle democrazie occidentali, altrimenti noi per fare questa guerra perdiamo la nostra stessa essenza, probabilmente l'abbiamo già persa perché c'è poca libertà di stampa anche nel nostro mondo. Chiaramente ci sono dei gradienti, non è paragonabile al regime turco, cinese o quello russo. Siamo sempre onesti intellettualmente. Certo che le voci un po' fuori dal coro, anche in Italia, sono sempre di meno. Faccio alcuni esempi per poi arrivare a quello più eclatante di propaganda, perché c'è propaganda anche da noi. Si può discutere delle sanzioni ad esempio sportive, forse è una mossa giusta colpire tutte le federazioni sportive russe per spingere al malcontento, per sanzionare il governo in maniera indiretta, per portare malumore, per isolarlo. Forse si può anche pensarla diversamente. Io, ad esempio, sugli atleti pariolimpici penso che sia stata fatta veramente una grande ingiustizia, ma così verso anche tanti altri sportivi, perché è una colpa dunque, ripeto, metafisica. L'essere russi porta con sé un peccato, il peccato originale, il peccato, il marchio dell'infamia per colpa dei crimini di Putin. Possiamo discutere di questa cosa? No, non se ne discute, non se ne discute perché tutto deve essere messo a tacere. E questo è un segnale gravissimo della nostra democrazia. Queste voci sono veramente ormai poche, poche, poche. C'è una presenza neonazista in Ucraina? Sì, se ne può parlare oppure no. Oggi ho visto che il giornale Domani ne parlava. A Maripol c'è di fatto la base del battaglione Azov, di questo battaglione con militanti neonazisti protetti a lungo dal governo di Kiev, verso cui Zelensky ha avuto anche delle remorie, ma poi ha dovuto anche accettare questa presenza di queste forze paramilitari neonaziste che invece, misto gli interni, misto la difesa Ucraina, hanno sempre appoggiato e anzi hanno anche finanziato. Si può dire che c'è una presenza nazista? Sì, si può dire, si deve dire, e bisogna dire che quello che sostiene Putin, che va a fare la guerra per liberare l'Ucraina dai nazisti, è una bestialità, è una idiozia, è una falsità. Allora capite, vi faccio questo esempio, perché c'è una realtà complessa. Ci sono battaglioni neonazisti e questi battaglioni nazisti nell'Ucraina orientale hanno compiuto dei massacri negli anni precedenti all'interno del mondo russofono. Dire questo vuol dire che Putin ha fatto bene ad attaccare l'Ucraina, a volerla conquistare, a volerla assediare, bombardare, perché quello che vuole fare ormai Putin è conquistarla, demilitarizzarla e creare questa sorta di stato, no, cuscinetto, comunque stato neutralizzato da Nato, da Unione Europea, come elemento per proteggersi e per poi magari dirigersi anche verso l'Oriente. Ne parlerò in un prossimo video. Invece no, ti chiedono di mettere il metro, tu non puoi dire nulla dei crimini commessi degli ucraini in quelle terre, perché altrimenti sei filo Putin. Non puoi parlare di altre ricette rispetto magari a inviare armi. Può essere una ricetta giusta inviare armi, ma magari uno può averne delle altre, può avere un'altra opinione, può ancora parlare in Rai, può ancora esporre il proprio pensiero in Rai, in Mediaset, la Sette, o si è censurati. A me spaventa veramente questa narrazione unica. Ci sono i responsabili, ci sono responsabilità diverse, ci sono i fatti che parlano, ma vanno raccontati e poi si possono anche interpretare i fatti. Ed è importante in democrazia garantire una pluralità di voci e di opinioni. vengono all'elemento incredibile, i reattori nucleari di Zaporizia, spero di averlo pronunciato bene, Zapo-ri-zia, la più grande centrale nucleare d'Europa. Ma ieri per tutto il giorno ci hanno detto che i russi attaccavano una centrale nucleare, ed era vero, ma sembrava che volessero attaccarla per farla saltare. L'Europa rischio, rischio nucleare, rifugio anti-atomici, il problema è che le armi atomiche, l'ho spiegato, vanno assolutamente messe al bando, progressivamente eliminate, e sull'energia nucleare ho tanti dubbi, anche per la pericolosità che possono presentare queste centrali. Ma qui apriremo un altro discorso. Veniamo all'informazione. Ma veramente, noi potevamo ieri immaginare che i russi, che ha una centrale nucleare vicino alla stessa Russia, la facessero saltare? Ma veramente? E poi mi ho scoperto che gli attacchi in realtà di che tipo erano? Erano sì, colpi di caro armato, dei traccianti, bombe, bombe, ma non erano bombardamenti a tappeto, non c'era l'obiettivo di far saltare una centrale nucleare, i cui reattori sono tra l'altro in un sistema di sicurezza elevatissimo. Ma partiamo dal presupposto iniziale, cioè i russi che sono lì che combatto farebbero saltare una centrale nucleare e dunque ucciderebbero anche se stessi, oltre gli ucraini. Ma non è possibile. Infatti poi oggi abbiamo una notizia certa che la centrale è al sicuro, i reattori sono al sicuro, non c'è stato nessun aumento nell'aria di radiazioni e che hanno preso il controllo e quella di Chernobyl addirittura è anche cogestita in questo momento con delle guardie ucraine. Ma ieri c'era il panico, i russi vogliono far saltare la centrale, non si fermano di fronte alla centrale, salterà, salterà, crimine, crimine, crimini contro l'umanità Putin ne sta commettendo tantissimi. E speriamo che venga per questo sanzionato, che paghi per queste cose fatte. Ma non si può accettare un'informazione di questo tipo, comunque un tam-tam per portare panico, per forse arruolare tutta l'opione pubblica nel sostenere questa guerra. Ma raccontatela guerra, raccontatela, raccontatela bene, raccontatela tutta. Così si forma un'opione pubblica critica, così si forma una cittadinanza critica. Invece ci vogliono come al solito tutti pronti a sede su un carro, poi magari questo carro verrà abbandonato e si salirà su un altro. Noi abbiamo bisogno di giornalisti, ce ne sono, ripeto, non tanti ma ce ne sono, indipendenti, comunque che anche se hanno il loro punto di vista ed è importante, rimangono oggettivi nel narrare e poi ci spiegano il loro punto di vista. E in questo momento non c'è bisogno di metterle il metto al giornalismo, mettere tutti la divisa. Andiamo tutti a raccontare soltanto che Putin è un criminale di guerra, che i russi sono impazziti, vogliono distruggere il mondo, l'Europa e dall'altra parte c'è il bene assoluto. Non funziona così. Ci sono le evidenti responsabilità, ma non possiamo raccontare la guerra in questo modo, omettendo la complessità degli eventi e degli avvenimenti e soprattutto non possiamo non lasciare spazio a chi dà delle interpretazioni diverse. È veramente importante rompere la propaganda, rompere l'uniformità, il conformismo, l'unicità dell'informazione nel nostro mondo, perché il nostro mondo è prezioso, perché questo è il nostro mondo, perché qua ci sono delle democrazie che quando c'è una guerra si ammalano, si sono già ammalati in pandemia, si ammalano ancora di più in guerra, sta accadendo qualcosa di estremamente pericoloso. Dalla pandemia alla guerra parsiamo da stati di emergenza stati di emergenza e libertà diminuiscono, la libertà di informazione diminuisce. Detto questo perché, lo ripeto, perché ci saranno alcuni che non lo capiranno, perché questa è la nostra la nostra terra politica, cioè la democrazia. Non dobbiamo farla passire, ma dobbiamo cercare di salvarla. Non stiamo confrontando, ripeto, l'informazione russa. È evidente la propaganda di Putin, i cartoni animati, la chiusura delle testate. C'è un problema di propaganda evidente, ma in Russia lo era già... Ma quelli che trattavano con Putin dovevano saperlo che i giornalisti venivano uccisi. Quelli che facevano affari con Putin, anche le nostre aziende italiane, non sapevano che Putin già negli anni 2000 ha fatto uccidere giornalisti, giornaliste. Non lo sapevano. Sì che lo sapevano. E allora, poiché c'era già questa situazione, ora si è ulteriormente aggravata. Non facciamo però i falsi nel dire che la propaganda c'è solo da una parte. Quella è mostruosa. A me spaventa la propaganda che sta aumentando dalle nostre parti. Si arriva anche a falsificare le notizie, a trasmettere delle immagini che non corrispondono più telegiornali all'Ucraina ma vengono prese immagini di repertorio per raccontarci un qualcosa che sta accadendo ma che non corrisponde rispetto alle immagini. Dunque, la propaganda è veramente da contrastare. In che modo? Aumentando il più possibile le nostre fonti di informazione e poi usando la testa usando la testa avendo spirito critico cercando appunto le notizie oggi vi ho raccontato due o tre cose va bene tornerò nei prossimi giorni come vedete quando uno cerca di proporre comunque punti di vista diversi non accontenta mai nessuno totalmente perché c'è chi ormai dice no sono con la Russia no sono con gli ucraini non è una questione di tifo non è una questione di tifo non è una questione di chi ha iniziato prima non è una questione di è un problema di guerra che va interrotta c'è un'invasione in corso di uno stato sovrano in questo solo prima c'era un problema di guerra interna in una zona che si chiama Donbass questi sono i fatti complessi va bene e questi fatti complessi la guerra li riduce invece a tifoserie a bene contro male male contro bene facendo così ovviamente noi abdichiamo all'uso della nostra intelligenza abdichiamo a cercare la verità sapendo che non sarà mai una ma sarà sempre un insieme di verità le verità se ci abituiamo anche a capire che la verità tante facce e poi scegliamo anche da che parte stare cosa agire cosa fare se noi non capiamo e quella è la via da perseguire passiamo da una guerra all'altra da un regime all'altro dall'essere servi obbedienti da una parte o servi obbedienti dall'altra c'è bisogno di irrobustire la democrazia dico questo in un momento difficilissimo come quello di una guerra di una guerra